Presentandoci la vita come il funerale dei desideri, il demonio vuole indurci a non accogliere l'invito a nozze che il Signore ci consegna attraverso i fatti e le persone. Ogni giorno, infatti, rifiutiamo qualcosa della volontà del Padre, spinti a tentare di occupare il suo posto per saziare in libertà le concupiscenze. Sperperiamo la sua eredità per esaltarci ai primi posti del prestigio e dell'onore, dove ci illudiamo se realizzi la nostra esistenza. Ora, umiliamo e strumentalizziamo gli altri, mentiamo esibendo curriculum artefatti, sino a che il pallone gonfiato degli inganni non ci scoppia tra le mani. Precipitiamo allora all'ultimo posto, accanto ai porci, come il figlio prodigo, dove ci scopriamo nudi come i progenitori e ci nascondiamo dagli altri, affamati e soli. E quando il Signore, certo più riguardevole di noi, appare attraverso i fatti che ci umiliano e il Padre ci dice di lasciare a Lui il primo posto nella vita di tutti. La superba scalata alla menzogna del primo posto ci precipita sempre nella verità dell'ultimo, ma proprio in quel porcile immondo, seduti al posto nostro, all'ultimo, ci raggiunge, gratuito e del tutto inaspettato, l'amore di Dio. Egli infatti vede in noi il suo figlio disceso nel sepolcro, sino al posto dell'ultimo dei peccatori. E qui, con Gesù, il Padre abbraccia anche noi, ci risolleva e ci sussurra le parole più dolci, amico mio, vieni più avanti, ecco per te l'onore che ho dato a mio figlio risuscitandolo dalla morte. Il Signore ci chiama dunque a riconoscerci i peccatori, ad accettare umilmente la nostra debolezza e a metterci all'inferno e non disperare, come diceva Silvano del Monte Athos, in attesa che ci innalzi nel suo perdono, a vivere ogni relazione nella verità che ci fa liberi davvero, senza stupirci di non essere considerati, diminuendo agli occhi degli altri, perché il Signore cresca e colmi in loro la loro vita. La Chiesa, infatti, è ogni giorno messa all'ultimo posto davanti a tutti per annunciarvi l'amore di Cristo risorto e il suo onore, quello preparato per ogni figlio scappato di casa.